1, 2, 3, video haul bianca. Buongiorno, rieccoci e oggi giro un video haul di bianca. Mi era arrivato il messaggio, se mi vedete sporca, ho fatto addormentare bianca e quindi ho delle macchie sparse. Ora mi andrò a cambiare. Mi è arrivato il messaggio da parte di Prenatal che per chi aveva, per i possessori della VIP Club, c'era il 50% sulla collezione primaverile e il 30% su quell'estiva. E sono andata a prenderle delle cosine. Ho preso tutto al 50%, però non mi dice il pre... vabbè. Ora vediamo un attimino. Allora, la prima cosa che vi ho preso è questa felpina. Io vi dico i mesi e i centimetri. Allora, è questa qui, di questo bel colore salmone. Questa da 15,99 al 50. E ho preso quasi tutto 9,12 mesi e 76 centimetri. In realtà le avrei voluto prendere 12,18, però sarebbe stato troppo grande. E quindi le ho preso questa qui. Nel frattempo facciamo una cosa insieme, molto molto carina. Stacchiamo le etichette, così posso metterle a lavare. Quindi, 15,99 per i possessori VIP Club, ovviamente 11,19. Io vi consiglio sempre di farla alla VIP Club perché conviene. Poi le ho preso questo jeans con queste margheritine che per chi ci segue, se non ci seguite su Instagram, Monelle. Lei aveva una salopetta, quando era più piccina, che ha indossato. Questa, no, ho tolto le etichette e non vi ho detto il prezzo. Allora, 27,99, 19,59 ovviamente al 50. Anche questo. E quelli di Prenatal hanno questa cosa molto simpatica all'interno, che potete stringere e allargare la vita del jeans, così che anche se è tipo a bianca di gambe le vanno bene, ma in vita sono sempre un po' più grandi e quindi io tendo a stringergli. Questo qui. Poi le ho preso questo body di Minnie. Questo qui, sempre 9,12 mesi, 22,99. Però questo, ah no, 76 cm, vi stavo dicendo una sciocchezza. 16,09, perché ha la Vip Club ovviamente al 50. Ecco qui. Ora mettiamo a lavare tutto. Poi le ho preso questa qui, che è di un bel cotone e ha questo peplum in pizzo sangallo, così, con l'acquoricino. Questo, 16,09, 22,99, 9,12 mesi, al 50. C'erano un sacco di cosine al 50. Quindi, se avete dei bimbi, io vi consiglio di andarvi a fare un giro, perché al 50 è ottimo. Poi, che cosa abbiamo preso? Abbiamo preso un set di pigiamini, perché i pigiamini a noi non sono mai abbastanza. C'è questo rosa, con le nuvolette. C'è questo qui, bianco, con le nuvolette rosa. E c'è questo qui a rigini. Questo qui, nel set, viene 20,99. Ovviamente, al 50. C'è il 50 anche su intimo. Infatti, ne ho approfittato. E le ho preso sia i pigiamini, che ora vi faccio vedere, le ho preso i bodini. Intimo neonato. Intimo bimbo, no. Intimo neonato, sì. Neonato per prenatal è fino a 12-18 mesi. Quindi, fino a 12-18 mesi, se il 50 anche sul neonato. L'altro set di pigiamini è da due, ed è questo qua rosa, con la giraffa, e questo qua bianco, con i fiocchetti. Questo veniva 15,39 o 21, sempre al 50. Come vi dico sempre, io come cotone, sono sincera, io preferisco quello di primigi. Però, avendo necessità di acquistarle delle cosine, e, essendoci la 50 da prenatal, per questa volta, non ci accontentiamo, però va bene così. Poi, in più là, andrò da primigi. Poi, le ho preso, questa magliettina in cotone, le ho preso tutte cose in cotone, sempre 9-12, 6,99 o 9,99, sempre al 50. Questa qui, così, con questo pantaloncino, ci sono queste cose in cotone, fantastiche. Io mi trovo un sacco, bene con bianca, con magliettine, e leggings di cotone. Questo 4,89, sempre al 50. Poi, questa felpina, 15,99 oppure 11,19, sempre al 50. Io, ve l'ho detto, sto strappando tutte le etichette con voi, così metto a lavare. Poi, abbiamo questo qui, stesso prezzo di quello rosa, sono tutti in cotone, speriamo che questo cotone mi piace lavandolo. Questa qui, rosa, con le manichine a sbuffo, 12,99 o 9,09, vi ricordo che questi a 50. Poi abbiamo questi due pantaloncini, questo è un jeggings, ovvero, uno jeans a leggings. Questo qui, 9,12 mesi, 17,99, oppure 12,59. Questo qui, che è il mio pezzo forte, fatemi sapere qual è il vostro pezzo forte di questa haul, le volevo prendere il bodino a righe, della stessa fantasia, ma la sua taglia non c'era. Questo qui, 9,12 mesi, 27,99, oppure 19,59, al 50. Ecco qui. Poi abbiamo questo leggings con il blu, con i cuoricini rosa, bianchi e glitterati. Questo, vediamo, sono pieno di queste cosettine di plastica che tiro. Vedete, questo è qui. Questo, 4,89 o 6,99 al 50. Poi ho preso un set di bodini, questo qua, da 5, che veniva, 24,99, oppure 17,49, dove 12 mesi, ve li apro, perché, a parte che li devo mettere a lavare, ma, sono con l'incrocio. Io, questi qui, non li ho mai presi, però, c'erano questi qua, con l'incrocio sul davanti. Non so se sono più comodi o meno, ma, io vedo più bottoncini, quindi mi sa di no. C'è questo qua, bianca e lilla, questo qua, lilla, quando vedo tanti bottoncini, mi sa che non è tanto comodo. Poi, fatemi sapere, questo qua, con i cuoricini, rosa e rossi, poi ne abbiamo, gli ultimi due, che sono, uno rosa, così, e uno bianco, con i richiami rosa. e, qua abbiamo, stai, erano in offerta, alla cassa, tre fatti, di salviettine, queste qua, della Kikko, che io mi ci trovo, bene per le manine, per la pappa, da portare sempre in borsa, a un euro ciascuno, 99 centesimi, che è ottimo come prezzo, anche se, per le manine, per il visino, mi sto trovando benissimo, anche con quelle, della Fissan, Fissan rosa, oppure, con, cioè, io vi vorrei far vedere, che cosa ho combinato, macello, macello, quella, della Fissan rosa. Allora, il video è terminato, fatemi sapere, qual è stato, il vostro pezzo forte, qual è stato, il vostro parere, rispetto alla haul, io torno, dalla Baby Monella, e noi ci vediamo, al prossimo video.